12 dicembre. Ora santa. Pregavo per i poveri inglesi prigionieri e che abbandonavano i loro beni e domandavo che questa prova servisse alla loro conversione al cattolicesimo. Offrimi nello stesso tempo al padre. Sono stato prigioniero. Sono stato legato con corde e strappato da quelli che mi amavano e dei quali gustavo le dolcezze dell'affetto per subire trattamenti malvagi, odi grossolani, dispresti sottili. Ho voluto soffrire tutto perché voi possiate incontrarmi in mezzo a ciascuna delle vostre sofferenze. Vi vengo sempre incontro per darvi il sostegno e la gioia di penare con me, vostro sposo. Signore, ci sono anche le povere ragazze di quelle tristi case. Vorrei che fuggano da questa orribile esistenza. Passo ogni domenica davanti a quelle porte perché tu, che sei in me, mandi una grazia a qualcuna. Ti ricordi? Ti ho detto. Quando non potrai entrare in un luogo, la tua preghiera entrerà. Non esiste alcuna colpa che io non possa assolvere. Nessuna anima, per quanto sia caduta, che io non possa guarire. Ricorda il Vangelo. Alcuni ne erano scandalizzati. E io sono sempre lo stesso, col mio cuore che giunse sino ai più miserabili. Non restringere dunque le tue preghiere. Osa e spera. Più tu mi strapperai delle grazie, più ne avrò di nuove a tua disposizione. Amo che voi mi sollecitiate senza sosta. Pensa che una cosa che a te sembra difficile o impossibile da ottenere non è invece nulla per la mia potenza. Non sono tutto? Ed esaudirti non rientra nel mio dominio d'amore? Non lasciare l'amore. Parla col tuo amore. Rivolgiti all'amore. Non è tutto semplice tra l'anima e Dio? E tra due intimi si può far diversamente? Invece ogni argomento non riconduce sempre alla ripetizione del cantico d'amore, senza mai stancarsi, ma con nel cuore una vita sempre più ardente. Oh figlia mia, che il cantico della tua anima salga sempre nuovo ogni giorno. Esso non avrà fine, perché tu canterai ancora nell'eternità, nella stessa età indicibili. Ama già, ama molto. Non puoi sapere tutto quello che puoi ottenere, trasformare, acquisire col tuo amore sulla terra. Io lo so. Signore, sono così povera in amore? Prendi il mio, poiché sai che è per te, che è per voi. Offriolo al Padre, nella certezza della tua potenza. E poi domanda, domanda, domanda. Miei piccoli figli, rivestitevi in ogni momento del vostro Gesù, come Giacobbe, che coperto assomigliava a Esau. Allora il Padre vi farà entrare nell'eredità di tutti i suoi beni. E io, così felice, così felice, di aver pagato con le mie lacrime, con i colpi ricevuti e col mio sangue. Oh, miei piccoli figli, a me.